Questo è il tempo di chiamata, perché i tempi si compiono. Questo è il tempo della Chiesa, questo è il tempo dello Spirito e avverrà negli ultimi tempi che io spanderò il mio Spirito sui vostri figlioli, sulle vostre figliole profibizzeranno, sui vostri giovani e avranno delle visioni. E' una strana situazione quella di questa tradizione. C'è chi pensa al palettone, ai presepi, al cenone, ma non sanno che ogni anno non rilasce in questo mondo, ma nel cuore di chi lo adora. Questo è l'unico vero Natale che tutti possono festeggiare.